La Bibbia è il loro pane quotidiano, una scuola teocratica che li addestra alla cura del popolo. Si presentano così a Trinitapoli tanti fedeli che si riuniscono nella Sala del Regno per ascoltare il messaggio di Geova. Non si tratta né di una controcultura né di una setta perché il rispetto verso la fede cattolica è tale da non voler fare nessun paragone. Ognuno è libero di professare il proprio credo, come cita l'articolo 19 della Costituzione italiana, infatti i più piccoli ascoltano coi propri genitori la parola pronunciata dai fratelli, così si chiamano fra loro, ed adolescenti possono scegliere liberamente se continuare lungo il percorso tracciato oppure no. Nella cittadina pugliese è una realtà abbastanza ampia e la loro parola d'ordine è lo studio, in modo da saper portare il loro Dio fra la gente. Tanti minti vengono subito sfatati se si dovesse parlare con un credente. Ai Santi ci credono ma non li adorano perché in fondo sono solo uomini. Su oltre 400.000, come cita la Bibbia, mentre l'adorazione è riservata alla divinità. Bene, noi ci riuniamo due volte alla settimana, di cui il mercoledì, come oggi tu stai vedendo proprio, facciamo una scuola teocratica, di cui in base ai principi biblici, no, veniamo addestrati di come Dio si prende cura del suo popolo, tipo conduciamo delle scuole, insegniamo ai studenti che si insegnano a questa scuola di come predicare la parola di Dio, di come essere efficaci nel ministero, proprio come faceva Gesù Cristo, che prima di andare a predicare, chiamò discepoli, li addestrò e li mandò due a due a predicare e lo fece questo di casa in casa. Questa è una delle scuole. Poi, dopo di che, ci verrà trattato uno studio di libro, di cui si parlerà di Esther oggi personalmente e dopo le applicazioni che verrà fatte di come questa donna era stata così fedele a Dio e poi noi possiamo fare i nostri commenti di come possiamo imparare noi da questa donna. Dopo di che, poi, si concluderà con un cantico e una preghiera a Dio.